Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A e Beco. Wehr, all'interno di 24 secondi. Si, decisamente mancato è l'ottavo punto dell'ex Avellino. Eiss! Lo schiacciore trova una linea di posto monumentale. Germis Eiss. Dov'è che f*** qua con il tramometro? Dove vi andare al castito veloce. Jason Johnson va a piantare la schiacciata. Musso che si prova da 3.9! Incredibile, incredibile! E allora... La tripla di Cresolini! E di nuovo! Abbiamo visto i diavoli comandi in azione! 10 secondi, penetrazione di... Stoppa da Paladini! Market Game! 5 secondi! 4 secondi! Drake da 3! E realizza! E ancora il sigillo di Van Drake! Al secondo dalla fine! 78 a 65! Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco! Siamo! Supporti! Grazie.